Ma quante sono le terapie brevi? L'altro giorno per gioco ho iniziato a buttare giù una lista delle terapie brevi che conosco, è venuto fuori una cosa spropositata, è incredibile quante forme di terapie brevi ci sono, poi alcune sono molto simili tra loro, quasi indistinguibili, altre invece sono diametralmente opposte, alcune neanche hanno la parola terapie brevi o anche solo brevi all'interno del nome e altre non si sa se farle rientrare o meno perché è difficile dargli anche una collocazione dal punto di vista delle sedute perché alcune durano 10 sedute, 5 sedute, una seduta con una terapia a seduta singola, oppure altre durano 30, 40 o 50 sedute ma sono comunque brevi rispetto a quelle da cui sono partite originariamente. Nella nostra scuola di specializzazione in psicoterapie brevi, sistemico-strategiche e ICNOS ne insegniamo solo 4 ma perché abbiamo proprio cercato di mettere insieme quelle che hanno delle radici comune, approccio sistemico e approccio strategico. Anyway, continuando il mio gioco ho pensato di fare questo video dove stilo le 34 forme di terapie brevi che sono riuscito a individuare fin quei che mi sono venuti in mente. Non sono tutte, non vuole essere una lista completa, anzi ti invito a riscrivere qua sotto nei commenti di quelle che vengono in mente a te e che io mi sono perso e facciamo questo enorme listone di tutte le terapie brevi esistenti al mondo. Pronti? La terapia breve modello MRI più conosciuta come terapia strategica a cui ho dedicato anche un video che è stata quella elaborata all'interno del Brief Therapy Center di Palo Alto. La terapia strategica familiare di Jay Alley, sempre il gruppo di Palo Alto ma a tutta altra direzione. La terapia breve centrata sulla soluzione di Steve Deschazer e del suo gruppo di Milwaukee. La terapia breve orientata alla soluzione che è la declinazione di Bill O'Hanlon. L'ipnosi ericksoniana che non è fattivamente una terapia breve però di fatto la maggior parte dei casi descritti nei libri testi di Milton Erikson duravano una seduta e comunque Milton Erikson ha influenzato spropositatamente le terapie brevi. La terapia breve strategica di Giorgio Nardone che è un'evoluzione della terapia strategica modello MRI. La terapia seduta singola e qui potremmo distinguere il metodo californiano, il metodo canadese texano, il metodo australiano e ora anche il metodo italiano. La psicoterapia dinamica limitata nel tempo di Strapp. La psicoterapia dinamica breve di David Mannan. La psicoterapia intensiva, dinamica, breve, di Davanlow. La psicoterapia a breve termine ansia provocante di Sipneos. La stress response therapy and microanalysis di Horowitz. Questa non so come si traduca in italiano. La terapia ridecisionale di Cognigy Golding. Le MDR che ha dimostrato più che altro la sua brevità nel trattamento dei traumi. C'è chi fa poi di entrare anche la terapia cognitiva e la terapia cognitivo comportamentale tra le terapie brevi. Aaron Beck di fatto viene invitato spesso alla Brief Therapy Conference. Non tutti sono d'accordo che facciamo parte di terapie brevi ma buttiamole all'interno della lista. Altra eccellenza italiana è la terapia familiare della scuola di Milano con Mara Selvini, Palazzoli, Boscolo, Cecchini e Prata e che ha influenzato tantissime terapie brevi in tutto il mondo a partire dagli anni 70. La Family Crisis Therapy di Pittman. Io sto facendo con le dita a caso perché non so neanche dove sono arrivato finora. La Brief Behavioral Marital Therapy di Wishman. La One Person Family Therapy di Zaposchio. Come non so, mi scusi signor Zaposchi, non so come si pronuncia il suo cognome. La terapia coniugale a breve termine di Sigra Reis. La psicoterapia breve per i disturbi sessuali di J. Gale Beck che non è parente di Aaron Beck quanto mi risulta. La terapia sessuale breve di Flemus e Green. La NLPT, cioè le applicazioni terapeutiche della programmazione neurolinguistica che hanno fatto molto discutere sulla loro efficacia benché siano usciti di recente degli studi interessanti. La Interpersonal Psychotherapy for Depression che è un tipo di terapia derivata dagli studi di Harry Stack Sullivan, la sua psicoterapia interpersonale però mirata per la depressione, 12-20 sedute circa. La terapia di gruppo a breve termine. Le terapie brevi di gruppo per la schizofrenia, per l'insegnamento delle social skills, per gli interventi in situazioni di crisi. E così abbiamo anche visto come esistono sia delle terapie brevi to cure, pensate per quasi qualunque tipo di problema, e altre invece molto specifiche, molto settoriali. Un altro esempio per esempio sono i BBI, Brief Behavioral Intervention. Fine, 34 interventi di terapie brevi. Ho riportato solo quelli che hanno avuto un minimo di riconoscimento in letteratura. non sono tutti, mi piacerebbe se tu volessi aggiungere quelli che conosci tu, però è interessante vedere che il panorama è davvero così ampio perché ti permette di avere un'idea del fatto che ormai deve essere una certezza che la terapia non può soltanto essere efficace ma può e deve essere anche breve.